Il tema è etica ed economia e le relazioni tra etica ed economia sono molteplici e complesse, spaziando dall'interpretazione dei comportamenti in atto alla configurazione dei comportamenti auspicabili. Io semplificherò drasticamente il tema attraverso il riferimento esclusivo ai paradigmi che giudico oggi prevalenti, sperando che ciò mi aiuti a formulare qualche riflessione utile per comprendere i problemi etici ed economici della società in cui viviamo. Circa l'economia è noto che il paradigma comunemente accettato è quello dell'homo economicus, visto come un soggetto razionale che, nella veste di consumatore, risparmiatore, lavoratore o imprenditore, usa al meglio le proprie risorse all'interno dell'esistente cornice di opportunità e vincoli per raggiungere i propri obiettivi. Ciò non significa che l'homo economicus sia necessariamente l'homo homimi lupus e li può avere una profonda solidarietà anche oltre l'ovvio cerchio della famiglia e può incorporarla nelle proprie scelte, ma rimane il paradigma di un soggetto che usa il proprio spazio discrezionale per massimizzare i risultati da lui desiderati. Circa l'etica in economia, il paradigma qui adottato, che spero trovi con senso unanime e che comunque è desumibile dalle leggi che ci siamo dati, nasce dalla visione liberale dello Stato, quale risulta in termini impareggiabili dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 1776, persone uguali e libere per diritto naturale, che creano lo Stato come strumento che aiuti gli individui nella ricerca della sicurezza e della felicità. Di fatto, anche se non per necessità logica, televisione porta ad un'economia di mercato in cui soggetti uguali e liberi contrattano volontariamente tra loro entro la cornice delle leggi da loro stessi democraticamente adottate. Al binomio libertà e uguaglianza della rivoluzione americana bisogna aggiungere la componente della fraternità introdotta dopo pochi anni dalla rivoluzione francese, anche se questo terzo elemento è stato scritto e poi dimenticato per riaffiorare solo un secolo e mezzo dopo nelle Costituzioni e nelle dichiarazioni universali del secondo dopoguerra. Il paradigma unificante è quindi quello che caratterizza la cosiddetta economia sociale di mercato che implica democrazia, libertà di impresa, sovranità del consumatore, solidarietà, i principi insomma a cui si richiama l'Unione Europea nei suoi trattati istitutivi dal 1957 ad oggi. Nell'ambito così delineato, l'etica addita all'economia l'obiettivo del massimo benessere sociale e quindi impone di valutare la situazione economica e le azioni proposte in base al loro impatto sul benessere sociale. Ma il riferimento è ambiguo se non lo si qualifica in coerenza con la visione politica assunta un senso personalistico, ossia rispettoso di due postulati. Il primo afferma che il benessere sociale dipende solo dal benessere degli individui che compongono la società, eliminando quindi ogni visione di stato organico o teologico con superiori fini propri. Il secondo rispetta le preferenze individuali e quindi afferma indirettamente la sovranità popolare nell'arena politica e la sovranità del consumatore sul mercato, riconoscendo che ciascuno è il miglior giudice del proprio benessere. È un criterio che richiede ancora molte precisazioni, ma basta per inoltrarsi nell'analisi dei due problemi da affrontare. Il primo riguarda la produzione della ricchezza e pone l'accento sulla cosiddetta etica negli affari o degli affari, come spesso si usa dire. Il secondo riguarda la distribuzione della ricchezza e si risolve essenzialmente sul tema delle giuste o ingiuste disuguaglianze. Nella produzione della ricchezza, ossia nei processi che portano a creare il reddito di un Paese, si osservano tre tipi fondamentali di rapporti economici. Rapporti commerciali tra operatori privati, rapporti di carattere amministrativo tra pubblica amministrazione e operatori privati, rapporti di lavoro all'interno dell'impresa o dell'ente pubblico. Come appena detto, si assume che le leggi e le istituzioni che regolano tali rapporti scaturiscano da processi decisionali democratici ed esprimano i valori etici dello Stato liberale, siano cioè funzionali allo sviluppo di una società libera e di un libero mercato. Si assume quindi un corpus di regole e istituzioni che tutelino la trasparenza, il rispetto dei contratti, l'assolvimento degli obblighi tributari, che vietino le decisioni sleale presi in conflitto di interesse, la pubblicità ingannevole, il patto leonino e ogni altro abuso di potere di mercato, che calibrino attentamente le aree ad accesso ristretto in nome della tutela dell'utente, come il caso delle professioni liberali, e le aree di libera concorrenza, che infine assicurino il rispetto delle norme stesse attraverso adeguati controlli e sanzioni. In questa visione non sembra essersi posto per l'etica. Le regole vengono rispettate, non importa se per sincera adesione o per paura delle sanzioni, e tanto basta a mandare avanti il mondo. Ma si vede quotidianamente che le norme sono spesso incomplete, ambigue, privi di effettivi controlli e sanzioni. E ciò si osserva in tutti e tre i rapporti economici, commerciali e amministrativi di lavoro sopradelineati. A tale constatazione sembrerebbe doveroso reagire correndo a colmare simili lacuni, in modo da ristabilire subito e pienamente la potestà delle leggi. Ma la teoria economica dei contratti incompleti ci avverte che non sarà mai conveniente, ammesso che sia possibile, cercare di prevedere in un contratto tutti i possibili eventi e di prescrivere tutti i correlati comportamenti. Diventa quindi inevitabile l'esistenza di spazi di autonomia di ciascun operatore economico nelle relazioni interpersonali, siano esse sul mercato o all'interno di un'organizzazione. E non è detto che li sfrutti correttamente questi spazi. Il problema giganteggia nel settore pubblico, sia nei rapporti interni di lavoro che nei rapporti tra cittadini e Stato, ma tocca diffusamente anche il campo privato, dove assume particolare rilievo nell'area delle libere professioni. Da questo spazio di autonomia nasce lo spazio per l'etica degli affari, intesa appunto come etica dei comportamenti liberi, dettati solo dai valori. È un'etica che si può esprimere con il termine di lealtà, lealtà del singolo nei confronti delle norme entro la cui cornice opera e nei confronti dell'ente o imprese in cui lavora. L'etica negli affari può quindi essere definita come il sistema di valori che porta ad aderire alle norme anche quando, per carenza o ambiguità delle norme stesse o per concreta inadeguatezza dei controlli e delle sanzioni, siano possibili senza penalità comportamenti diversi. Da tale concetto derivano tre precetti. Primo, osservare rigorosamente le norme chiare, anche se non tutelate da adeguati controlli e sanzioni. Due, interpretare ed applicare in buona fede le norme non chiare. Tre, completare il quadro delle norme carenti applicando i principi generali e i casi concreti privi di riferimenti normativi precisi. Va sottolineato che l'etica diffusa costituisce un potente fattore di sviluppo. Essa riduce la corruzione e l'evasione, abbassa i costi dei controlli e delle sanzioni, diminuisce i cosiddetti costi di transazioni dati dall'insieme di informazioni da raccogliere e garanzie da pretendere per realizzare uno scambio e quindi facilita e aumenta gli scambi. Dilate i rapporti fiduciari e le deleghe nell'ambito delle organizzazioni complesse, aumentandone l'efficienza e facilitandone la crescita dimensionale. È essenzialmente il diverso livello di etica esistente nei vari Paesi che spiega perché lo stesso problema economico possa ricevere razionalmente soluzioni diverse in tali Paesi, che spiega molte differenze economiche fra territori con analoghe dotazioni di risorse fisiche e umane, che spiega infine e purtroppo alcune peculiarità negative dell'Italia, dalla malavita organizzata all'evasione fiscale e alla corruzione, che ne frenano la crescita economica e ne indeboliscono la stessa coesione sociale. Il problema non è passibile per definizione di soluzioni meramente tecniche, aumentando a dismisura i controlli e le sanzioni. Perché i controlli costano. Perché un Paese civile non può mai abbandonare il principio di proporzionalità tra reato e pena. E soprattutto perché una società con scarsa etica e diffusa corruzione non può fidarsi ciecamente neanche dei controllori, ai quali consegna un valore di corruzione potenziale tanto maggiore quanto più alta è la sanzione che si possono infliggere o togliere. Ma se l'etica è un fattore economico di primaria importanza, perché i componenti di una società non aderiscono razionalmente e spontaneamente i precetti etici che aumenterebbero la ricchezza collettiva a potenziale vantaggio di ciascuno? Per rispondere conviene richiamare il noto dilemma del prigioniero, con cui la teoria dei giochi ha chiarito in modo semplice la differenza fra interesse collettivo e interesse individuale. Due malviventi armati sono catturati dalla polizia che sa che hanno commesso una rapina, ma non è alle prove. I due vengono separati e indotti a confessare il crimine attraverso la promessa di attenuanti o aggravanti a seconda che uno confessi o meno. Per ambe due sarebbe meglio non confessare e subire solo la lieve penalità per porto abusivo d'armi, ma tale strategia verrà adottata soltanto se ciascuno è sicuro del silenzio dell'altro, altrimenti i due corrono a confessare la rapina ottenendo così il peggiore risultato collettivo. Non è un racconto edificante questa ricerca del meglio per la confraternita dei criminali, ma è didatticamente illuminante. E comunque la stessa storia può essere raccontata in termini meno scostanti con riferimento ai beni comuni, ossia ai beni disponibili a tutti come i funghi nel bosco, il legno nella foresta, le risorse etiche in mare, eccetera, eccetera. Se vi fosse un unico proprietario, questi raccoglierebbero ad esempio i funghi a un ottimo stadio di crescita. Se la proprietà è di tutti, il singolo non risparmi il fungo appena nato se teme che subito dopo un altro lo raccolga. Si genera così un eccesso di sfruttamento del bene comune che è pernicioso per tutti. E' merito dell'economista americana Elinor Ostrom, premio Nobel 2009, avere dimostrato con ricerche empiriche che vi sono esempi significativi di gruppi sociali, ad esempio gli elevatori svizzeri che condividono i pascoli alpini, in cui sopravvive la cultura del conveniente uso della res communis, senza degenerare nello spirito di sfruttamento della res nullius. Ma restano eccezioni rispetto alla tendenza della storia di ridurre la dimensione dei beni comuni fruiti da comunità civili e di privilegiare invece la statalizzazione o la proprietà individuale, considerate più funzionali all'ottimo utilizzo delle risorse. Ambedue le storie evidenziano il ruolo cruciale del rapporto fiduciario nella comunità civile, che a sua volta dipende dalla coesione sociale, che a sua volta trova fattori esplicativi nella ristretta numerosità, nella stabilità, nella condivisione delle caratteristiche culturali fondamentali. Simile società rende improbabile la violazione delle regole di comportamento anche perché essa genera un forte controllo sociale e una severa caduta di reputazione per chi le violasse. Si forma così un circolo virtuoso in cui il singolo si sente stimolato a compiere il proprio dovere perché conta su un analogo comportamento da parte degli altri. Per contrasto, una società numerosa, instabile, che non obbedisca sostanzialmente né ai comandamenti divini né all'imperativo categorico cantiano, genera un circolo vizioso in cui anche i volontarosi sono costretti ad arrendersi. Perché il singolo che voglia essere ossequiente all'etica capisce che se rimane da solo può rovinare se stesso e la sua famiglia e la sua impresa senza migliorare il mondo. E tuttavia la storia dimostra che anche i circoli viziosi possono essere interrotti e invertiti mediante rivoluzioni non necessariamente cruente, quando lo scontento per il degrado etico sia diffuso e trovi, o creda di trovare una leadership che assicuri un nuovo corso capace di generare effettivamente maggiore etica e maggiore benessere. Salvo ovviamente che non sia solo una ventata populistica che poi lascia le cose peggio di prima. Il ricordo, in termini positivi, va al risorgimento, quando gli italiani erano un popol morto nelle parole di Carducci. Erano da secoli calpesti ed erisi, come ci ricorda la seconda strofa del nostro inno nazionale che non cantiamo mai. Eppure sembrano trovare con Mazzini la forza di letteralmente risorgere. In attesa di qualche evento salvifico si può fare qualcosa nel quotidiano per aumentare il livello di etica nella società, e pensiamo in particolare alla società italiana. La prima azione suggeribile è paradossalmente di restringere lo spazio per l'etica, dilatando quello delle regole formali. Anche se, come abbiamo detto, lo spazio di autonomia per gli operatori resterà ampio, pur nello Stato meglio amministrato, è vero che in Italia è ancora lunga la strada da percorrere nell'ammodernamento dell'assetto normativo e istituzionale. Occorre quindi puntare a norme semplici, chiare, ragionevoli, salvaguardate da un apparato burocratico e giudiziario affidabile ed efficiente. Nello spazio residuo dei comportamenti discrezionali, tre suggerimenti. L'educazione dei giovani, il controllo sociale, la subsidiarietà. Educare i giovani non significa certo insegnare l'etica lezione. Servono invece l'esempio e il coinvolgimento. L'esempio di dedizione degli insegnanti, sul cui reddito e prestigio sociale lo Stato deve tornare a investire, e il coinvolgimento degli studenti in ben calibrati spazi di autonomia organizzativa, che crei spirito di corpo, prima forma di coesione civile, è un gioco di squadra all'insegna della reciproca fiducia e collaborazione. Circa il controllo sociale, esso deve generare processi informali di premiazione e punizione in base all'etica, politica, in particolare nei confronti dei politici, degli imprenditori e degli intellettuali. Senza cadere nel giustizialismo populista, che è un degrado dell'etica, occorre essere severa nel giudicare i comportamenti che magari sono legali, ma sono poco commendevoli. La subsidiarietà, infine, può essere di grande aiuto, sia nella versione orizzontale che in quella verticale, e conforta che abbia assunto in Italia il rango di principio costituzionale con il nuovo articolo 118 introdotto dalla riforma del 2001. All'ultimo comma, esso prevede la subsidiarietà orizzontale, prescrivendo che gli enti territoriali favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. E si intuisce come queste autonome iniziative diventino un'ottima palestra per far crescere coesione sociale e fiducia reciproca. Il primo comma dell'articolo 18 introduce invece la subsidiarietà verticale, affidando il potere amministrativo all'ente territoriale più piccolo, il comune, e risalendo a enti maggiori solo in base ai principi di differenziazione ed adeguatezza. È il sogno del buon federalismo, all'insegna del binomio autonomia e responsabilità come vagheggiato da illustri pensatori italiani del secolo scorso, da Salvemini a Nitti a De Vitti De Marco. Ora il federalismo ha perso smalto sotto il peso di ripetuti esempi di incompetenza e di corruzione. Ma la soluzione decentrata non ha perso le sue fondamentali motivazioni, meno che mai nella prospettiva degli Stati Uniti ed Europa. E tra queste motivazioni c'è anche quella etica, perché, come già insegnava Tocqueville, è solo dal basso che si può creare e sviluppare lo spirito comunitario all'insegna dell'autonomia e della responsabilità. Un contributo importante deriva anche da chi dà il buon esempio, facendo ancora di più di quanto richiederebbe lo spirito delle regole. Si tratta, nella fattispecie più importante, della cosiddetta responsabilità sociale d'impresa, che è così stata definita dall'Unione Europea. Integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate. Si è chiaramente di fronte a comportamenti non obbligatori e quindi a costi volontariamente assunti dall'impresa per una valutazione etica dei suoi doveri morali in aggiunta a quelli legali. In pratica, si tratta di azioni volontarie nel campo della sicurezza nel lavoro, del welfare aziendale, dell'ambiente, della vita comunitaria. Non sempre la dottrina economica loda simili comportamenti. Milton Friedman, premio Nobel 1976 e capo della Scuola Liberista di Chicago, sostiene che si producono un danno e non un beneficio sociale. La sua tesi è tutt'altro che banale o cinica. In linea con Adam Smith le ricorda che il massimo prodotto interno lordo si ottiene in un contesto di concorrenza perfetta in cui sopravvivono solo le imprese più efficienti che puntino al massimo profitto nel rispetto delle leggi. Qualsiasi deviazione da questo scenario comporterà un'accaduta del prodotto effettivo rispetto a quello potenziale e quindi ridurrà a livello aggregato la capacità del sistema economico di far fronte ai problemi sociali attraverso la ridistribuzione del reddito. Sembra un ragionamento inattaccabile, ma si può obiettare che esso dipende da un modello di economia astratto e statico. In realtà si opera in un mondo imperfetto, disuguale, in evoluzione, con leggi diverse nei vari paesi, con azioni sociali diffusi in nome della sussidiarietà. In questo mondo reale il modello concorrenziale rimane il riferimento più importante per il legislatore come per l'operatore privato, ma non è più il riferimento esclusivo. Tre esempi possono essere portati a giustificazioni di azioni etiche di impresa volontarie, anche se costose. Il primo sottolinea l'evoluzione delle regole. In un mondo dinamico le norme cambiano e cambiano perché nasce e cresce nella società la domanda di cambiamento. Sul piano strettamento giuridico l'impresa deve stare alle regole vigenti fino a che non siano sostituite dalle nuove, ma l'impresa vive nella società e non può sottrarsi in molti casi, quando si parli di forme e garanzie contrattuali, di sicurezza nel lavoro, di tutela dell'ambiente, di trasparenza nella vendita, eccetera, dal prendere parte in tutto ciò che non è strettamente imposto dalle norme al movimento che precede e accompagna e segue l'evoluzione normativa. Di nuovo si trova per questa via uno spazio di comportamenti volontari che è bene che l'impresa adotti in vista di contribuire al progresso sociale. Il secondo argomento considera l'economia globale e i diversi ordinamenti statuali. Nello scenario di un'economia ormai organizzata a scala globale, pure per le piccole e medie aziende, l'impresa si trova spesso ad operare in vari stati e si trova quindi soggetta ad ordinamenti anche molto diversi. Di solito è proprio la diversità delle norme, soprattutto nel campo del lavoro e dell'ambiente, che giustifica la dislocazione produttiva in Paesi in via di sviluppo di qualche segmento dell'attività aziendale. L'impresa che non sa sfruttare le opportunità offerte dalla globalizzazione semplicemente perde capacità competitiva e scompare. E tuttavia esistono differenze che, ancorché accettate di diritto o di fatto nel Paese estero in cui si opera, non sono accettabili per il nostro ordinamento e per la nostra coscienza. Si pensi al lavoro minorile e all'inesistenza di prescrizioni per la sicurezza di lavoratori o della popolazione o dell'ambiente. Spetta l'impresa il difficile compito di trovare un equilibrio tra le opportunità di minori costi reperibili all'estero, opportunità che può e deve sfruttare per sopravvivere, e le esigenze minime imposte dalla coscienza sociale di impresa, alla luce del nostro ordinamento e del nostro sistema di valori. Ma è certo che qualche forma di restrizione volontaria è doverosa. Il terzo argomento riguarda il già richiamato principio di sussiderietà orizzontale che segna l'evoluzione dallo Stato sociale alla welfare community, alla comunità solidale. In questo nuovo scenario di responsabilità diffuse sul fronte dell'azione sociale è intuitivo che anche l'impresa si senta coinvolta e intenda fare qualcosa in via diretta, visto che il tradizionale modello della intermediazione statale, attraverso imposte e spesa pubblica, subisce ora severe limitazioni. Come notazione finale vale anche per la responsabilità sociale dell'impresa il circolo virtuoso dei comportamenti, visto a proposito dall'etica negli affari. più sono le imprese che realizzano azioni volontarie per la tutela ambientale, per il welfare aziendale e comunitario, maggiore la pressione psicologica sulle altre imprese ad adeguarsi, a mettersi sulla stessa strada per non dare di sé un'immagine negativa. Nel campo della produzione e vendita di beni di consumo, quando si è ormai diffusa la sensibilità dei lavoratori e dei clienti ai comportamenti socialmente responsabili, si può anzi arrivare al risultato apparentemente paradossale che la benevolenza diventa generatrice di profitto. In altre parole, l'impresa avrebbe interesse a dimostrarsi socialmente responsabile, almeno fino a che i costi della responsabilità non superino i benefici attesi di una maggiore lealtà dei lavoratori e di una maggiore disponibilità a pagare dei clienti. Il costo di breve periodo sarebbe in realtà un investimento in immagine che aumenterebbe il profitto atteso nel lungo periodo. E con questo Milton Friedman è messo a tacere da sé stesso. Perché, a differenza dalle precedenti argomentazioni che sono esterne al modello concorrenziale, questa ultima ragione è connaturato al modello dell'impresa che massimizza il profitto. Passiamo ora al secondo aspetto del tema, ossia all'etica nella o della distribuzione della ricchezza. Il punto di partenza è dato dalle implicazioni distributive del modello di riferimento, che è essenzialmente meritocratico. Un ideale mercato di concorrenza perfetta genera compensi ai fattori produttivi che riflettono le loro produttività marginali. Diciamo genericamente che i compensi sono commisurati ai contributi dati dei singoli alla formazione del prodotto. È etica la distribuzione di redditi che ne consegue e che è intrinsecamente all'insegna delle disuguaglianze. A favore sta l'automatico rifiuto dei compensi personali e dei profitti aziendali legati a posizioni di potere di mercato, di cui sarà lecito, anzi doveroso, impedire la formazione attraverso le menzionate politiche antitrust, oppure colpire con imposte la parte non meritata nel caso che tali abusi di potere dovessero manifestarsi. A favore sta il frequente disaliniamento tra ruoli produttivi e meriti personali. In altri termini, immaginando che sia eticamente accettabile la remunerazione in base alla produttività marginale dei fattori, tal che ad esempio la posizione lavorativa A ottiene un compenso doppio di quella B, ciò non implica che sia giusto che in A stia tizio e che in B stia Caio. Con le successioni ereditarie e la conseguente differenziazione dei patrimoni alle spalle di Tizio e di Caio, anche il supposto merito comparato diventa opinabile. Il mercato sembra meritocratico, ma diventa in realtà una corsa truccata in cui i diversi punti di arrivo dipendono dai diversi punti di partenza. Non meraviglia, quindi, che autorevoli studiosi di ispirazione liberale, da John Stuart Mill a Luigi Enaudi e James Buchanan, abbiano invocato l'uguaglianza dei punti di partenza, spingendosi in alcuni casi a chiedere un'imposta successoria estremamente elevata. Di fatto, è stata una strada non perseguita, anche se a riguardo le odierne differenze tra Stati sono notevoli, sia per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, sia per quanto riguarda i comportamenti volontari. Si pensi ad esempio alla cultura americana, in fatto di donazioni filantropiche, anche a scapito dell'eredità in famiglia. In realtà, gli Stati liberali, pur senza ambire all'uguaglianza dei punti di partenza, hanno cercato di dare opportunità diffuse alla popolazione, non già attraverso l'imposta successoria, ma attraverso la spesa pubblica in beni e servizi universali, quali istruzione, sanità, previdenza e assistenza di massa, finanziata da sistemi tributari progressivi. Si tratta dello Stato sociale del welfare state, che si è affermato nei paesi occidentali, in particolare in Europa, nel secondo dopoguerra, e che, pur con il forte ridimensionamento avvenuto negli anni Ottanta del Novecento, è ancora il paradigma dominante in tali paesi. Istruzione e sanità di massa apparivano anche lo strumento adatto per attuare la visione solidaristica propugnata da Amartya Sen, premio Nobel 1998, che è diventata un riferimento importante nella letteratura economica e nel dibattito politico. Essa innova rispetto alla tradizionale dottrina dell'utilitarismo di derivazione settecentesca, non tanto per il livello della redistribuzione, che in qualche versione dell'utilitarismo può essere estrema. Quanto per i suoi contenuti? Per Sen, infatti, non si tratta di ridistribuire denaro attraverso imposte e sussidi, bensì di consentire a ciascuno di realizzare il suo piano di vita attraverso la diffusione di capabilities, ossia di capacità di azione, intese come il prodotto di dotazioni basiche di cura, conoscenze e abilità operative, con opportunità di utilizzarle. Lo Stato sociale, diminuendo le differenze attraverso servizi universali che diffondevano capacità, consentiva una mobilità sociale che rendeva tollerabili le purforte differenze residue e diventava così un baluardo della democrazia. A una diminuzione delle disuguaglianze sembrava, d'altra parte, portare la stessa evoluzione della struttura produttiva e quindi della distribuzione originaria dei redditi in un'economia di mercato. La dottrina prevalente, nella seconda metà del Novecento, sosteneva, infatti, che lo sviluppo economico avrebbe dapprima accentuato, ma poi attenuato, le disuguaglianze attraverso la diffusione delle possibilità di lavorare e fare impresa, nonché allo sviluppo endogeno di istituzioni e norme ridistributive. La dinamica degli Stati occidentali, in particolare di quelli europei, nei primi decenni del secondo dopoguerra, all'insegna appunto dell'economia sociale di mercato, era la dimostrazione lampante della capacità di un'economia di mercato di diffondere, oltre che di creare ricchezza. Ciò aveva, peraltro, la conseguenza di far sentire come meno necessario lo Stato sociale, che nel frattempo aveva perso smalto, troppe spese, troppe inefficienze e corruzioni, troppo alte le imposte per finanziarlo. Sicché alla fine degli anni Settanta ci fu la virata neoliberista con l'avvento di Margaret Thatcher in Gran Bretagna nel 79 e di Ronald Reagan negli Stati Uniti nell'81. Essa bloccò l'ulteriore espansione dello Stato sociale, non arrivò tuttavia ad eliminarne gli istituti fondamentali. Poi negli anni 90, con la rivoluzione telematica, la diminuzione dei costi di trasporto e la caduta del muro di Berlino, iniziò la nuova fase di globalizzazione, che è caratterizzata da tre dinamiche contestuali. Primo, cresce la ricchezza media a livello planetario, con l'uscita ogni anno dall'area della miseria di milioni di abitanti dei Paesi emergenti. Due, si riduce la differenza di reddito pro capiti in senso territoriale tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Tre, aumentano le differenze sociali all'interno di ciascun Paese tra quelli che riescono a inserirsi con successo nella nuova competizione globale e quelli che ne sono espulsi. Il fenomeno delle differenze sociali crescenti, pur con notevoli differenze tra Stati, è stato documentato nel 2011 da una vasta ricerca comparativa dall'Ocse, che ha il titolo espressivo Divided We Stand, Why Inequality Keeps Rising, perché la disuguaglianza continua a crescere. Peggio ancora, è stato riscontrato che in molti Paesi le forti disuguaglianze sono associate a una bassa mobilità sociale intergenerazionale. La situazione economica delle nuove generazioni è fortemente legata più di prima alla situazione delle famiglie di origine. È la fine del sistema di mercato come fattore di mobilità sociale e dispensatore di ricchezza diffusa? Non è detto. Può essere solo l'avvio di un nuovo ciclo lungo che vede lo sviluppo economico accentuare da prima e poi ridurre le differenze, come è avvenuto in passato. Ma è certo che la miscela maggiori differenze e minore mobilità sociale è letteralmente esplosiva, perché rende le differenze intollerabili, come più volte ha ricordato Papa Francesco. Se al fenomeno delle crescenti disuguaglianze all'interno della popolazione esistente si aggiungono le migrazioni di massa, ci si accorge come la ridistribuzione della ricchezza sia problema gigantesco che incombe su tutta la vita collettiva. In tale scenario non basta più dare una sufficiente dotazione di capacità iniziale per ridurre le disuguaglianze. Nell'economia globale i mestieri si formano e scompaiono rapidamente e si moltiplicano i casi di disoccupazione in età matura, quando è molto difficile la riconversione delle capacità e il reinserimento lavorativo. Ora serve davvero il terzo piede dell'etica pubblica nata dalla Rivoluzione Francese, la fraternità, ossia quel sentimento di solidarietà che spinge comunque ad aiutare il debole, anche se gli era stata garantita la parità dei fonti di partenza. Conforta a constatare che la solidarietà è predicata sia dalla morale laica che da quella religiosa. Il precetto religioso non richiede spiegazioni. Quello laico è stato proposto e spiegato in molti modi. Il più convincente è quello del neocontrattualismo del filosofo americano John Rawls del 1971, che ha proposto la sua teoria della giustizia, immaginando quale sarebbe la scelta sociale democraticamente espressa se le persone, che in grande maggioranza hanno avversione e rischio, fossero chiamate a decidere sulla distribuzione della ricchezza in ipotesi di assoluta ignoranza sul proprio stato fisico, mentale, attitudinale. In tale contesto la scelta sarebbe razionalmente di tipo assicurativo, tesa cioè ad assicurare il massimo benessere di chi sta peggio nella società. Il che è compatibile con una distribuzione diseguale delle risorse, ma fino a che la disuguaglianza, attuata dando di più a chi ha più talento, va a vantaggio anche dell'ultimo. Questa visione rappresenta chiaramente un esperimento mentale, ossia una lettura della mente e del cuore delle persone, non un concreto processo decisionare, ma intuitivamente fa capire perché le scelte assunte sub specie eternitatis siano intrise di forte solidarietà. Quali sono queste scelte assunte da decisori che guardano oltre l'attualità e anche oltre la propria esistenza e quindi contemplano un futuro ignoto per se stessi e per i propri e altrui discendenti? Si può pensare alle parole d'ordine di una rivoluzione, alle regole di una Costituzione democratica e soprattutto ai precetti religiosi. Questi ultimi sono paradossalmente il riferimento più convincente per il non credente, che li reputa una creazione umana rafforzata dalla trasposizione dei precetti nello spazio della fede e rafforzata da premi e sanzioni nell'aldirà. Il fatto che pur nella estrema diversità delle religioni storiche esista una quasi generale convergenza verso la fraternità, che raggiunge il massimo di forza nelle religioni monoteiste e in particolare nel cristianesimo, la cui migliore sintesi e il precetto ama il prossimo tuo come te stesso, è per il non credente la prova della capacità esplicativa del contrattualismo vecchio e nuovo. La solidarietà risulta la scelta razionale delle persone che si confrontano con il futuro ignoto, ed essa si radica nella moralità religiosa e laica e influenza i liberi comportamenti individuali, per poi arrivare nel faticoso e sanguinoso cammino della storia a ispirare le regole costituzionali degli Stati democratici. Tali regole diventano infine l'alveo e gli argini della legislazione e dell'amministrazione ordinarie, che potrebbero contenere delle virate riduttive rispetto ai precetti solidaristici, in quanto attuate nel rispetto alle persone che non hanno più il velo dell'ignoranza sul proprio Stato e sanno ben valutare gli immediati effetti delle norme. Sorgono a questo punto alcuni quesiti circa le politiche solidaristiche che per limiti di tempo mi limito a menzionare, riviando gli approfondimenti alla versione scritta. Primo, le ragioni della coercizione. Il primo riguarda il ruolo dello Stato. Se l'istinto di solidarietà è diffuso, perché non lasciare che si manifesti solo in forme volontarie, come dal resto è avvenuto per lunghi secoli in passato? Varie sono le risposte, la più decisiva delle quali si richiama ancora una volta al rapporto fiduciario che le azioni volontarie a sostegno dal bene comune presuppongono. L'individuo tipico è disponibile a dare a patto che gli altri, in analoga situazione economica, diano altrettanto, altrimenti impoverisce se stesso senza migliorare il mondo. Lo Stato diventa pertanto, con la coercizione, il garante di quel generale sforzo di solidarietà che i cittadini desiderano, ma non sanno attuare volontariamente. Secondo quesito, lo spazio residuo per l'azione volontaria pur in presenza di una forte ridistribuzione pubblica. La risposta è che questo spazio è ancora significativo e soprattutto è crescente a causa della crisi fiscale che oggi caratterizza molte economie mature, la nostra inclusa. In tali Stati, infatti, la globalizzazione aumenta la difficoltà di prelievo fiscale perché le frontiere diventano più labili, per cui bisogna ricorrere sempre più all'intervento sussidiario della comunità. Ne è una prova il forte revival del volontariato dopo l'appannamento subito nella fase di ascesa dello Stato sociale quando il paternalismo del dono sembrava contrastare la battaglia diretta a dilatare lo spazio dei diritti. Terzo quesito, modalità della ridistribuzione. La scelta sta essenzialmente tra sussidi monetari e beni e servizi gratuiti o agevolati, alimenti, alloggio medicinali, eccetera. A parità di valore, il beneficiario è più felice se riceve denaro e tuttavia l'assistenza in natura si osserva in tutti i Paesi, sia per ridurre le truffe, sia per essere sicuri del buon uso dell'aiuto da parte del beneficiario. Quando sia possibile e conveniente, appare eticamente raccomandabile la soluzione intermedia del voucher, ossia dei buoni spesa, a destinazione vincolata, che tolgono al beneficiario la libertà di scegliere il tipo di spesa, ma li consentono di scegliere il fornitore. Il quarto e ultimo quesito riguarda la scelta tra sussidi in denaro in natura e agevolazione al beneficiario nell'inserimento lavorativo o nel compenso del lavoro, attraverso ad esempio assunzioni riservate ai disabili e minimi salariali e quant'altro. La risposta è che questa seconda modalità va favorita, facendo peraltro attenzione a evitare disparità fra imprese. Chiudo, puntuale con le campane, con un riepilogo che valga a far emergere il filo conduttore dell'analisi svolta. Il tema del rapporto economia ed etica di per sé limitato è stato semplificato attraverso il riferimento ai paradigmi dell'odierna economia sociale di mercato. In tale contesto, l'etica degli affari ispira una legislazione a favore della corretta concorrenza e quindi del merito, mentre per la parte non normata o non controllabile postula comportamenti discrezionali all'insegna della lealtà verso lo spirito delle leggi e verso i fini istituzionali dell'ente o dell'impresa in cui si opera. Benché l'etica si dimostri sempre e ovunque un formidabile fattore di crescita economica e quindi prometta potenziali vantaggi a tutti, essa presenta a livelli ben diversi nel tempo e nello spazio, e l'Italia è purtroppo un cattivo esempio a tale riguardo. La spiegazione sta nel contrasto tra interesse individuale e interesse collettivo quando non sia sufficientemente forti legame fiduciario tra le persone e nei confronti delle istituzioni. Ne è facile diffondere l'etica, anche se possono aiutare un'intelligente educazione scolastica, il controllo sociale, un efficiente decentramento amministrativo e la diffusione delle azioni di interesse generali promosse dalla società civile all'insegna della sussiderietà. Importante è anche la diffusione di iniziative volontarie di tutela ambientale e promozione sociale attuate dalle aziende in nome della cosiddetta responsabilità sociale dell'impresa. Circa l'ancor più delicato tema dell'etica nella distribuzione della ricchezza, si sa che una buona economia di mercato crea disuguaglianze basate sulla produttività dei fattori, il che è tuttavia accettabile solo se esista vera meritocrazia. L'uguaglianza dei punti di partenza, vagheggiata dalla corrente più alta del pensiero liberale, è rimasta un mito. Ma una sufficiente diffusione delle opportunità di ascesa individuale è stata realizzata dal welfare state in Europa, specie nel secondo dopoguerra. La rivoluzione telematica e la globalizzazione, entro cui i volenti o nolenti dobbiamo vivere, comportano una maggiore crescita economica a livello mondiale e una riduzione delle differenze tra Paesi, ma accentuano le differenze sociali interne aggravate in vari Stati da una decrescente mobilità sociale che minaccia di rendere tali differenze davvero intollerabili. Servono allora politiche ridistributive forti oltre che efficienti, pur nella crisi fiscale degli Stati nazionali, che nell'era della globalizzazione della telematica incontrano maggiori difficoltà di prelievo e devono poter contare sulle azioni volontarie della welfare community. Conforta riconoscere che l'uomo ha un istinto profondo alla solidarietà, che si è da lungo trasmesso in precetti morali di fonte laica o religiosa e che nella seconda metà del Novecento è arrivata ad ispirare le Costituzioni di molti Stati, tra cui il nostro. La dottrina del neocontrattualismo ha reso più convincente sul piano analitico questa tesi che però si ritrova sostanzialmente uguale in altre autorevoli scuole di pensiero, accomunate dall'idea di base che l'etica si fondi sul comportamento razionale dell'individuo quando questi si è posto di fronte a un orizzonte lontano e quindi a un destino ignoto. L'antinomia non si pone quindi tra la realtà dell'uomo economicus e l'astrazione dell'uomo solidale, ma tra razionalità di breve e razionalità di lungo periodo. Non basta simile convincimento a risolvere i problemi, come non basta la solare evidenza che l'etica degli affari è collettivamente vantaggiosa per superare il quotidiano opportunismo individuale, ma conforta pensare che il richiamo all'etica nella distribuzione della ricchezza poggi anche sull'intelligenza, oltre che sul cuore dell'uomo. Grazie.